Verso Mestre con Andrea Bonetto. Insieme al nostro difensore, arrivato quest'anno in giallo e celeste, ci avviciniamo alla settima giornata. Andrea, grazie mille per prepararci al match. Grazie Chiara, ciao a tutti. Come di consueto, cominciamo dall'ultima gara che vi ha visti in campo. FC Arzegnano-Valchiampo, calcio Caldiero-Terme. Dal derby Veneto, analizziamo la settimana. Parto dalla partita di domenica, dove è sicuramente arrivato un risultato positivo. Credo che non sia stata la nostra miglior partita, però dal mio punto di vista siamo stati bravi nel momento in cui siamo andati in svantaggio a non farci prendere troppo dalla fuga di voler recuperare immediatamente. Siamo rimasti concentrati e abbiamo messo in campo il nostro gioco e siamo riusciti quindi poi a pareggiarla e infine a passare in vantaggio. La settimana è andata bene, è iniziata nel modo giusto. Siamo un gruppo che si allena sempre con grande intensità e con grande voglia di fare. Infatti non vediamo l'ora che arrivi appunto la domenica per mettere in campo quello che abbiamo preparato durante la settimana. Con un'importante carriera da professionista in Serie C, con le maglie di Bassano, Lane Rossi Vicenza e Fermana Football Club, dove hai militato prima del tuo arrivo ad Arzegnano, hai vissuto per due anni anche la Serie D, con i colori di Alto Vicentino e Mestre. Domani perciò sarà un match da ex per te. Andrea, presentiamo Mestre FC Arzegnano Valchiampo. Sì, sono un ex e ricordo sempre con molto piacere Mestre perché quando sono arrivato ero un ragazzo giovane e quindi quell'annata è stata importante e mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. Per quel che riguarda la partita sarà sicuramente una partita tosta perché loro sono un'ottima squadra, mettono in campo un bel gioco palla a terra e hanno dei giocatori di valore. Hanno da poco anche cambiato mister e questo dà sempre una scossa al gruppo squadra e ti fa dare quel qualcosina in più. Penso però che noi dovremmo rimanere concentrati soprattutto su noi stessi. Abbiamo preparato durante questa settimana la partita nel migliore dei modi e quindi siamo pronti ad andare lì per fare una gran partita e fare una battaglia per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Dopo la trasferta al Baracca di Mestre ci sarà subito la trasferta per i 32esimi di Coppa Italia dove mercoledì 3 novembre affronterete la Virtus Cesarano Bergamo. In conclusione Andrea diamo proprio uno sguardo a questi impegni ravvicinati. Sono due impegni ravvicinati, entrambi molto importanti sia il campionato che la Coppa. Noi però pensiamo passo dopo passo quindi la prima partita è quella di domenica in campionato siamo focalizzati su quella e poi penseremo alla partita di Coppa Italia. Il primo appuntamento quindi è con il match di campionato Mestre FC Arzegnano Valchiampo serie di Girone C domani settima giornata alle ore 14.30. Andrea grazie di cuore, buon lavoro e in bocca al lupo a te e a tutti voi. Grazie a voi e crepi il lupo.